Elena, sono sette anni che siamo insieme che il nostro onore è cresciuto, maturato e si è rafforzato fino ad oggi, ma nonostante questo siamo ancora due bambini, perché siamo ancora dietro alla nostra semplicità, alla nostra spontaneità e al nostro entusiasmo, ma come questo aereo che al di là di questi finestrini ci muoviamo, ma se pensiamo a stare qui dentro è come se fossimo fermi, ma in realtà ci stiamo muovendo, il tempo sta passando ma per noi rimane sempre lo stesso, quindi in questo viaggio, in questo volo che è la nostra vita, arrivato a oggi, in questo preciso momento io ti domando, mi vuoi scordare? Grazie! 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 Grazie!